Ma... vuoi essere la mia regina? No! Il popolo è nel panico per Ade. Ogni volta che apriamo la barriera siamo esposti al pericolo. Non possiamo rischiare di avere un altro cattivo in libertà. Sentivo tutti i miei poteri svanire. Se non mi dai quella pietra, allora perderò tutto. Non dovevi venire qui. È in pericolo la vita delle persone! Questo è un compito da pirati! Devo annullare un incantesimo, dammela. No! No! Non avevo scelta! Descendants 3, a ottobre, su Disney Channel.